Sarajevo è la città più inquinata al mondo, almeno secondo gli ultimi rilevamenti sulle particelle nocive presenti nell'atmosfera, mercoledì 20 dicembre a livello di 360 del sito specializzato IQR. Le altre città con l'indice superiore a 300, definito pericoloso, sono New Delhi in India e Lahore in Pakistan. I livelli di inquinamento dell'aria ritenuti sopportabili sono sotto l'indice 100. Roma e Milano sono le successive città europee con livelli di qualità dell'aria preoccupanti. Si piazzano rispettivamente 21esima e 23esima nella classifica mondiale con 134 e 127. Sarajevo nei giorni scorsi è stata inghiottita da una spessa coltre di smog e nebbia. Le autorità hanno lanciato appelli a non restare a lungo all'aperto e a usare le mascherine. Ma il problema non è nuovo, le proteste della popolazione risalgono a 2020. All'epoca gli esperti dicevano che l'inquinamento atmosferico era dovuto soprattutto all'uso di centrali elettriche a carbone e di vecchi automobili. Da allora le autorità si sono impegnate a rendere la città priva di emissioni di carbonio entro il 2035. Sarajevo deve fare qualcosa e la città è stata inclusa tra le 100 che l'Unione Europea sta aiutando a raggiungere le zero emissioni nette. Attualmente sta sviluppando piani di azione e di investimento per la neutralità climatica in tutti i settori.